cicatrici e baci è un progetto fotografico si tratta di ritratti di processi di guarigione è stato portato avanti per un sacco di anni a titolo gratuito penso di poter stampare un centinaio di fotografie con cicatrici e baci c'è un dialogo con la persona e si crea proprio un momento in cui vanno ad emergere delle parti di un'interiorità che non ha ancora trovato espressione e che vuole uscire trovare il suo spazio in un ambiente che è quello artistico per cui è molto liberatorio la libertà di esprimere una parte di sé che è stata coinvolta molto profondamente da un evento traumatico che però è passato è stato trasformato elaborato per entrare in un percorso con me e terminare in questo ritratto si decide innanzitutto di raccontare a me personalmente la storia di una cicatrice una delle qualità fondamentali è proprio quello di lasciarsi andare a un dialogo per cui c'è una sorta di componente anche di curiosità e mettersi in gioco ci vuole proprio un po di coraggio perché è proprio una dinamica dove non sai dove andrà a finire come andrà a finire permetto che io non cerco la cronaca di quello che è successo ma qualcosa che vuole essere narrato una storia che voglia essere narrata quindi raccolgo la storia e poi in qualche modo si può dire che pesco dalla mia borsa di mary poppins quello che serve ed entrando in dialogo do dei compiti chiamiamoli compiti attività non c'è veramente una cosa standard perché è tutto basato sul dialogo e c'è quindi qualcosa che ognuno fa a distanza la persona che esegue i suoi compiti e io che continuo una strutturazione di un progetto proprio basato sulla persona e poi ci troviamo per un photo shooting è molto importante perché è una cosiddetta messa in scena è un momento in cui si crea proprio una sorta di palcoscenico io creo il setting per cui io ho una qualità registica in questo momento con chiaramente tutti i valori che però sono anche definiti dal coaching quindi lo spazio di ascolto di accoglienza l'ambiente guidato e sicuro dalle foto che scatto poi io traggo dei fotocollage la reazione principale a un proprio ritratto il fatto di vedersi attraverso gli occhi di qualcun altro è sempre di sorpresa interesse le foto non sono tendenti alla bellezza in sé io sto rappresentando un territorio interiore una forza qualcosa che è legata proprio a una cicatrice specifica a un processo di guarigione specifico quindi quello il contesto non è il ritratto che deve essere bello però è molto interessante perché ridà anche proprio un'occasione di vedere qualcosa che non era stato visto questa è una cosa importante perché lo scopo è anche di ampliare la propria coscienza e quindi questo deve essere in primis l'effetto